Ciao scimiatti, buongiorno, un saluto dal vostro Danilo e oggi vi parlo delle cuffie wireless Mpo H1 sono delle cuffie bluetooth, le ho portate a Parigi e le ho provate hanno la cancellazione attiva del rumore e devo dire che mi hanno abbastanza soddisfatto adesso sigla e poi ne parliamo insieme allora partiamo subito con l'ergonomia allora questi due padiglioni auricolari sono molto morbidi il contatto con le orecchie, l'orecchio scusate viene coperto completamente si possono piegare così per riporlo nella custodia che c'è qua di stoffa hanno questo pezzo che c'è qui sopra ha una piccola gomma all'interno morbidissima e per me il riporlo nella confezione si piegano in questa maniera allora hanno come potete vedere tre tasti volume più, volume meno e risposta alla chiamata e tasto di accensione hanno l'indicazione qui della parte dove dovete inserire le cuffie e qui le cuffie si possono allargare in questa maniera hanno un piccolo carlino a scorrimento si adattano molto tranquillamente a tutti i tipi di testa allora cambio inquadratura eccoci qui allora per quanto riguarda le cuffie possono essere posizionate così o così non so se la fotocamera riesce a mettere a fuoco o così non possono essere piegate verso il petto diciamo questo secondo me comunque lo trovo un po' scomodo bisogna metterle così per avere un pochettino di comodità per quanto riguarda l'ergonomia come detto si posizionano così già così isolano abbastanza bene dal rumore non so se sto urlando però io la mia voce la sento abbastanza ovattata sono molto comode sia per quanto riguarda qua l'orecchio sia per quanto riguarda questa parte qui che nella maggior parte delle cuffie di questo tipo arrivati a un certo punto almeno a me capita così arrivati a un certo punto mi viene una sorta di mal di testa e di dolore queste le ho provate per diverso tempo indossate e non mi hanno dato nessun problema allora eccoci qui l'accoppiamento è molto semplice nel senso che come detto scusate l'inquadratura allora come detto si preme questo tasto questo tasto comanda tutto si accendono per fare il pairing vengono riconosciute immediatamente dal dallo smartphone e si collegano tranquillamente io le ho usate anche sulla mia Fire Stick TV e non ho avuto nessun problema anzi non c'è nessun tipo di ritardo e il il collegamento è immediato allora l'utilizzo dei tasti non è intuitivo nel senso che se voi state ascoltando musica premette il tasto qua più o meno voi direte il tasto del volume no ha due funzioni se lo premette a lungo entrambi i tasti se li premete a lungo potete alzare e abbassare il volume se fate un click solo andate avanti o tornate indietro con la canzone o il filmato che state guardando all'inizio io non lo capivo ho dovuto guardare sul manuale qui sotto abbiamo la possibilità adesso ve lo faccio vedere eccolo qui c'è la possibilità che siano utilizzate anche tramite cavo quindi doppia funzione ottima si ricaricano tramite un connettore micro usb nella confezione c'è il cavo ma non non abbiamo lo spinotto di ricarica allora passiamo alla parte diciamo non top però una delle caratteristiche che mi hanno portato a voler prendere queste cuffie la cancellazione attiva del rumore non è niente di particolare nel senso se c'è molto casino io li ho provati in aereo se c'è molto casino il rumore si sente comunque viene smorzato bene però diciamo che su un 100% di rumore viene smorzato forse del 50 55% niente di particolare sono il suono è molto chiaro adesso prova a connettere allo smartphone vi farò sentire non so se si sentirà la vocina dovete tenere premuto anche una volta fatto il pairing dovete tenere premuto anche per connetterlo al telefono allora con questo Redmi Note 8 di cui a breve uscirà la recensione ho avuto diverse difficoltà ad accoppiarlo perché una volta premuto il tasto di accensione in teoria si dovrebbe connettere automaticamente con il Redmi Note 8 non è così però ho avuto difficoltà con altri accessori sempre con il con il Redmi Note 8 e poi ne parleremo nella recensione perché sarà una recensione abbastanza carica e adesso li proviamo vediamo un po' se riesco a farvi sentire un pochettino di audio allora l'ho messo a tutto volume vediamo un po' se la fotocamera riesce a cogliere l'audio sono stati giorni che hanno lasciato il segno allora l'audio è molto buono molto equilibrato il volume è alto però nello stesso tempo non distorce traiamo le conclusioni è un ottimo prodotto io le ho pagate in offerta a 22,75 euro mi pare comunque intorno ai 22 euro a questo prezzo sono assolutamente un ottimo acquisto vi lascio il link in descrizione se volete acquistarle e provarle lasciate un like se vi è piaciuto questo video seguiteci sui nostri social Instagram e Facebook e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao scimiatti alla prossima recensione